Ciao accordiani, sono Andrea di Backline, sono qua allo stand EBS a mostrarvi una novità di EBS che è il nuovo pedale Signature di Billy Sheehan, il Billy Sheehan Signature Drive. La particolarità del Billy Sheehan Signature Drive è quella di avere una gestione completamente separata del percorso del segnale fettato e del percorso del segnale drive, così potete collegarci due catene indipendenti di effetti. Avete quindi il potenziometro clean per gestire la quantità di suono clean, il level, il tono e la quantità di drive e poi insieme al drive chiaramente c'è un compressore interno che può essere escluso oppure sottato su una media compressione o una compressione alta. Quindi è un penale molto completo, d'altronde Billy calca i palchi da tantissimi anni, quindi diciamo che se ne intende.